Una giornata dedicata ai ragazzi e soprattutto al loro approccio all'utilizzo della strada secondo i canoni della totale sicurezza. Nella giornata europea della sicurezza stradale, la Polizia Municipale di Camaiore, il Movimento Articolo 230, in collaborazione con ACI, Motorizzazione Civile e Associazioni del Territorio, hanno organizzato una mattinata di studio e di esercitazioni pratiche riservate ai ragazzi delle scuole. Assieme alle forze dell'ordine, gli studenti hanno affrontato le problematiche e le difficoltà che si trovano a vivere ogni giorno sulle strade prima di partecipare attivamente ad alcune esercitazioni pratiche su un percorso appositamente allestito in via Oberdan che è rimasta chiusa per l'occasione. Noi abbiamo iniziato qui a Camaiore un percorso molto importante che ha l'intento di chiedere l'applicazione dell'articolo 230 del Codice della Strada che stabilisce l'obbligatorietà della cultura della sicurezza stradale nelle scuole e questa iniziativa rientra in questo programma. Quindi oggi faremo un percorso con i ragazzi e grazie a tutti gli enti che hanno partecipato, l'ACI, la motorizzazione, il sorriso di Elisa, tutte le misericordie, la Croce Verde, tutte le associazioni che hanno contribuito al successo, che contribuiranno al successo di questa giornata.